Certo, è una dimostrazione dell'onestà e coerenza del nostro metodo di fare politica diverso dai vecchi partiti verticistici. Oggi c'è un passaggio di testimone al nuovo capogruppo, per i prossimi sei mesi sarà Andrea Quartini, il nostro dottore massimo esperto di sanità, si è già distinto per l'attività in aula sui grandissime battaglie sulla riforma della sanità e oggi avrà anche questo compito, questo ruolo di capogruppo del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle Toscana. Prima Andrea faceva una metafora bellissima, noi riteniamo che sia onesto quella forza politica che si mette a difesa come uno scudo a difesa dei cittadini e oggi assistiamo sempre di più uno sbilanciamento tra chi ha potere e chi ha forza economica nei confronti dei cittadini vessati oggi delle banche, poi prima dei servizi da queste bollette dell'acqua, l'acqua più cara in Italia in Toscana e noi siamo sempre dalla parte dei più deboli e sempre dalla parte dei cittadini, questo per noi farà differenza anche sotto l'aspetto dell'onestà.